Area Self è la nostra soluzione di banca che consente di effettuare tutte le operazioni di cassa anche a filiale chiusa, in totale sicurezza, tramite il nostro sportello automatico evoluto, pensato per chi ha poco tempo, per evitare lunghe attese allo sportello e per chi non può raggiungere la filiale negli orari di apertura. L'interfaccia grafica intuitiva e touchscreen ti permette di portare a termine tutte le principali operazioni bancarie con la semplicità di un tablet. In ogni Area Self puoi effettuare prelievi con ogni tipologia di carta e per i clienti Gruppo Banca Popolare del Lazio lo fai a costo zero senza ridurre il plafond della tua carta. Versare banconote e segni è semplice come anche effettuare bonifici, pagare bollette, F24 e molto altro ancora. Puoi pagare gli avvisi di pagamento emessi dalle pubbliche amministrazioni inserendo manualmente i dati o scansionando direttamente il barcode ed effettuare pagamenti dei pollettini postali. Ricaricare il credito del cellulare non a commissioni e per il bollo auto per le regioni convenzionate potrai effettuare il pagamento in pochi passaggi anche se non sei cliente. Area Self. Tutte le operazioni di cassa, nessuna attesa allo sportello.